partenza valveneggia fresco stamattina non so quanto ma fresco in fondo alla valveneggia adesso comincia la real salita comunque 4 km arrivare qui praticamente in piano per fortuna dopo per tornare fuori ci sono gli sci abbiamo più gli sci allora ci va un po più veloce adesso soliamo di là verso passo le farangole va più caldo qua in fondo valle adesso si continua in scialita e vediamo come come inser la neve qua a della porta 2004 e 50 penso più o meno che è polvere polvere qui si continua su di qua giornata spettacolare eccoci passo delle farangle qua davanti il mulas la c'è cima bocche da iuri brutto e dietro la ci dovrebbe essere cima uomo sopra passo san pellegrino qua si vede un po alto piano delle pale pronti a partire in discesa o no vado io a partire in discesa o no vado io a partire in discesa o no vado con�azione a partire in discesa o no vado io a partire in discesa o no vado io paura la parte sia Sì Sì, sì, sì. Noi sasso! Sgivato! Sgivato! L'ultimo! Ho rischiato di centrare un sasso Mi sembra bello eh! Sgivato! Siamo comunque qui andando giù con calma Qua? bella! ok qui si va giù un po' più con calma perché ci potrebbe essere qualche sasso e non si vede perché c'è solo poca meve non ho non ho non ho è un'occhiazione non ho 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 da illa Qua stanno 10 gradi in meno rispetto a su. Ecco ormai siamo alla fine del giro, mai fatto con gli sci, fatto qualche volta. Oggi un po' di vento in su, ma parte quello caldo e invece qua brina cristalli di ghiaccio ovunque. Ma a te? Niente, non sono arrivato su. Bellissimo qua, spettacolo. Bellissimo qua, spettacolo. Bellissimo qua, spettacolo. Bellissimo qua, spettacolo.